In un'estate da subito caldissima per lo scoppiettante mercato avellinese, un tormentone a quanto pare c'è e riguarda, neanche farlo di proposito, un giocatore italiano. Molte scelte di Avellino girano attorno al sito di Giampolo Ricci, che tuttavia potrebbe preferire altre proposte accantonando quella bianco-verde. L'esperienza cremonese è finita, l'agente Riccardo Sbezzi desidera portare il suo assistito altrove per permettergli di monetizzare le ultime due ottime annate. Su di lui la Sidigas si è mossa con largo anticipo e dal ragazzo è stato proposto un biennale da 150.000 euro ciascuno. Il giocatore è attentennato, ma a quanto pare non sarebbe convinto dell'ipotesi irpina. Da un lato ci sono le sirene di Sassari, dall'altro lato c'è la sensazione che tra Avellino e Cremona cambierebbe poi poco. L'indirizzo è che a questo punto Ricci possa sfumare, ma molto dipenderà anche dagli altri incastri, perché se Milano metterà nel suo roster polonare al posto di Barz, allora per Ricci si aprono davvero le strade di Sassari. Si resta in attesa, intanto Alberani ha incassato anche il no di Lorenzo Benvenuti pivot ex Bergamo. I bianco-verdi inseguono la quintana ai giuri e nel ruolo di guardia valutano con molta attenzione l'ex Ucam Mursia Milton Doyle.